25 aprile oggi si va all'incontro sto andando all'incontro nel prima mattina dopo una serata impegnativa tra rostite e cedere il giro della liberazione saluta il capitano che oggi è libero finalmente vero Dario 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 25 aprile siamo alla Madonna del Belvedere sulla strada per Carovigno Cirmedio Hitec Fabio il nuovo dalle storie niente ci stiamo divertendo Dario Dario una giornata bellissima una giornata buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata Siamo il capitano ed è che ti stai perdendo. E ci volevi ridurre, questa persona è calda. E ci volevi ridurre.